Ciao a tutte ragazze, oggi come vedete qui sopra c'è un bellissimo scatolo, quindi è un video unboxing Aspetta Claudia, se non aprire, aspetta Claudia ve l'ha già spoilerato Disney Store, perché la scorsa settimana c'è stato un... Ci sono stati due giorni in cui c'è stato il 24% di sconto sui giochi Quindi giochi peluche, giocattoli, ad esempio anche vestiti di carnevale sul sito del Disney Store Come sapete io sono una malata della Disney, quindi con la mia titolare che anche lei è una super malata del Disney Abbiamo deciso di fare un piccolo ordine, non ho preso chissà che cosa, però vi dico la verità Ho pagato molto poco in totale, perché poi facendo il conto totale all'incirca tutto quello che vedete qua dentro Mi è venuto circa 38 euro, quindi neanche un prezzo eccessivo Intanto vi faccio vedere, ovviamente qui copro perché c'è l'indirizzo della signora C'è Topolino qui Qua c'è scritto Quindi cosa voglio dire non lo so, però è tipo un anticipo di Natale Ecco insomma Comunque è bellissimo lo scatolo perché su tutti i lati c'è scritto shop Disney, Disney Store Ora qui c'è Minnie E qui c'è Topolino Qui c'è Topolino e da quest'altro lato sempre Minnie credo, sì Poi nel lato di qua non c'è nulla come vedete Però la cosa più bella è l'interno, ecco perché mi sono portata Aspetta amore, aspetta togli un attimo Me lo sono portata perché è davvero bellissimo al suo interno Guardate quanto è bello dentro È tutto stilizzato Disney, tutto 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 Guardate che bello No lo lasciamo così No perché mamma mi serve un scatolo E ti serve? Ma questo è uno scatolo troppo grande Comunque guardate che carino Tutti i personaggi vestiti di Natale Davvero bellissimo questo scatolo Passiamo subito all'unboxing Perché non voglio fare un video chissà come Ah ecco la fattura c'è meno male con i prezzi Perché alcuni non li ricordavo Allora Intanto ho fatto una cosa che Vedete facciamo quasi tutti gli anni con la signora Ogni anno Disney Crea Minnie e Topolino Con l'ambientazione appunto con il vestito natalizio E noi ogni anno lo prendiamo Aspetta che non uscire quelli Questi erano praticamente prendendoli entrambi Cioè se si prendono entrambi Costavano se non sbaglio 20 euro Non vorrei sbagliare perché il loro prezzo era 20 euro Presi insieme Guardate quanto sono carini C'è un altro pezzo di carta Infatti qui vedete Dice 30 euro veramente qui Però in realtà Se non sbaglio poi in quel momento erano in promozione a 20 E poi addirittura c'è stato l'ulteriore 24% In teoria appunto vengono venduti 30 euro singolarmente 30 Minnie E 30 Topolino Vedete Guardate quanto sono carini Alla c'è Topolino Ecco qui infatti c'è scritto Ogni anno c'è sempre nel piede scritto l'anno Vedete questi sono quelli del 2019 Di quest'anno Qui c'è quello di Minnie E noi saranno circa una decina d'anni Non tutti gli anni devo dire la verità Li abbiamo presi Qualche anno ci è saltato Però molti c'è lì ora Poi dopo ve li farò vedere Allora ecco qua Minnie Ha la capicetta rossa Con qui tutti i disegnini natalizi E la connellina Guardate la connellina È verde Ci sono le candy cane I pacchetti I tutti i fiocchetti di neve E poi guardate le calze che ha Le calze bianche Con tutti i puntini dorati E poi le sue scarpe col tacco E il fiocco verde Dimmi Claudietta Ce l'hanno Questo qua nuovo E poi vedete Questo qua è il dietro della giacchina E invece Il completo di Topolino È praticamente al contrario Se voi guardate Intanto al cappellino Guardate che carino il cappellino Qui ha la foglietta Con appunto la sua testa E il cappellino Di Babbo Natale Anziché il fiocchettino E poi qui ha il papillon rosso E poi ha il gilet Che richiama la gonna di Minnie Verde Con i due bottoni dorati Vedete che carino Guardate con le candy cane Qui c'è Tutti i pacchettini Adesso vedete Adesso vedete un rossetto Va bene Non ci fate caso Io sono proprio Scegata E invece appunto Il pantalone di velluto rosso È uguale Alla giacchina rossa Di velluto di Minnie E poi c'è scritto appunto Disney 2019 Eccoli qua Poi Adesso prima finiamo l'unboxing Che poi vi faccio vedere Quelli degli anni precedenti Poi Allora Voi dovete sapere Ma penso che ormai L'avete capito E uno dei miei film Disney preferiti È assolutamente La Bella e la Bestia E era da tanto tempo Che volevo prendere Appunto un peluche Della Bella e la Bestia Appena ho visto questo Ho proprio Ho urlato Come una pazza Chi mi conosce Potrà immaginare Guardate cosa ho trovato Ho trovato Chicco È troppo carino Guardate che bellino Guardate Si tiene da qua Questo è il suo naso Ed è anche abbastanza grande Vedete c'è proprio È fatto poi benissimo In tutti i suoi Ecco qua Vedete qui è stivo rigido Qui c'è il pietino Vedete guardare che bellino Perché evidentemente uno Vedete guardare ecco qua Questa è la targhetta Aspetta Claudia The beauty and the beast Chips peluche E questo costava 12 euro Ecco 12,90 scusate 12,90 e poi col 24% Adesso vediamo se nella fattura Ci sono scritti i prezzi effettivi Io mi sono fatta il mio calcolo Ovviamente però Ora non li ricordo Precisamente Eccolo qua Questo era chicco Poi una cosa che voleva Claudia tantissimo Infatti la sentire che miagola Ed è lei che miagola Se sentire miagolare È Claudia che miagola Perché ha visto Quello che ho comprato per lei Dammelo Facciamolo vedere Miaosi Eccola qui La piccola Minou Anche lei se non sbaglio Era 12,90 Addirittura che mi hanno tolto il prezzo Non so perché Vedete non c'è il prezzo Di solito è qui Ed eccola qui Minou è tutta bianca e rosa Guardate il fiocchettino Che ha qui tutto di velluto È meraviglioso È meraviglioso E poi Ultimo qui Ultimo Giusto però non c'è più niente Il mio Miau Questo l'ha voluto Claudia È praticamente Pippo Che ha le calamite nelle mani E si attacca ovunque Infatti vedete Accroche moi O dove Quindi vuol dire Attaccami ai tuoi vestiti Attaccami dove vuoi Clip me anywhere Ed è presente appunto Questa clip di Pippo Se non sbaglio Questa costava 5 euro Infatti eccolo qui 5 euro Sempre poi con il 24% Eccolo qua Pippo guardate che carino Allora Adesso vi dico Poi vi volevo far vedere appunto Tutto lo scatolo vuoto Guardate quanto è bello Tutto stilizzato Tutto disegnato all'interno amore No perché Invece qui E poi ci conserveriamo Tutte le cose dell'albero Quando le togliamo Hai capito? No lo vorrei Vabbè Finirà di colorarlo tutto Vi faremo vedere il capolavoro Di Claudia Va bene Quindi lo scatolo Meraviglioso Allora Vediamo se già ci da Che devo coprire Perché c'è l'indirizzo L'indirizzo è da questo lato E qui Eccoli qua Eccoli qua Sì forse Già ci sono forse I prezzi scontati Eccoli qua Sì Allora Mini peluche Imbottito di Marie Che sarebbe Minou Che in realtà si chiama Marie Eccolo qui Ah no Minou C'è scritto Minou 9,80 euro Mini peluche C'è la calamità Mini peluche Imbottito di chicco 9,80 euro Peluche Mini Huggies Pippo Disney Store 7,60 Infatti vedete due Perché uno l'ha presa Anche la signora Quindi è venuto Praticamente 7,60 Diviso due Dovrebbe essere 3,80 Forse Sì 3,80 Quindi è venuto 3,80 Pippo Poi peluche Medio Holiday Cheers Mini Disney Store Che sono due Ma perché ci dice 0,0 Mi sta prendendo il dubbio Perché poi 38 euro Il maglione Che Che praticamente È stato preso Dalla signora Aspetta Claudia Non capiscono Perché non c'è il prezzo Ma non ce l'hanno fatti pagare I pupazzi Vedete c'è scritto 2,2 Oh Non so perché In effetti Facendo il calcolo Forse non ci sono compresi Vabbè Comunque ragazze Che vi devo dire Forse è venuto Una botta di sedere Una volta nella vita Ce li hanno regalati Non so cosa dirvi Perché 10 20 20 E 40 Sono 60 Ragazzi Non ci hanno fatto pagare I pupazzi Mi sa Secondo me La signora Questa cosa Non l'ha vista Non se ne è neanche accorta Che poi addirittura Ce ne hanno messi Vedete 2 di mini E 2 di topolino Però 0,0,0,0 Quindi non ci sono segnati i prezzi Quindi non vi so dire Forse una volta nella vita Abbiamo avuto una botta di sedere E comunque Che dire Una gioia Allora Questi erano i miei piccolissimi acquisti Come avete visto Aspetta Vediamo qua Amore Se no non si vede Eccolo qui I miei piccoli acquisti Natalizi Diciamo Perché abbiamo preferito Non prendere Decorazioni natalizie Perché Come avete visto Dal video dell'altra volta Ne ho prese tantissime Da Primark Quindi sinceramente Prendere ancora altre decorazioni Poi vedrete L'albero di Natale Quando vedrete L'albero di Natale Vedrete tutte le decorazioni La quantità industriale Di decorazioni natalizie Che ho per l'albero E quindi era alquanto inutile Poi non c'era niente di particolare Niente di nuovo Che ci piacesse Quindi non abbiamo speso Soldi ulteriori Va bene Fatemi sapere Se a voi piace la Disney Se fate mai ordini Sul Disney Store Probabilmente Per il Black Friday Che è il 29 di novembre Faranno qualche altro sconto Ma a questo punto Noi avendo già preso tutto Credo che non Non prenderemo altro Quindi non Va bene Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti